Allora, prima dell'intervallo qualcuno mi ha chiesto, ma potremmo aspettare un paio di secondi con una set time out e poi vedere se effettivamente il risultato c'è? Si può fare, ma dicevamo prima, non è una cosa che ci dà una garanzia, perché se ci mette 3 secondi, non lo sappiamo. Noi dobbiamo fare in modo che al verificarsi di un certo evento, finito di leggere il DB, ci sia del codice eseguito. L'unico modo che abbiamo in questo momento è la callback. Quindi se vogliamo la certezza, il codice va messo dentro la callback. Possiamo fare le lunghe quanto vogliamo le callback, non è che dobbiamo pagare per scrivere le linee di codice. Però è sicuramente un meccanismo scomodo. Giusto per la vostra curiosità, mentre ero in pausa, mentre facciamo la pausa, ho provato a scriverlo, così facciamo l'esercizio con la set time out. Ho preso il codice di prima, l'ho messo tra parentesi graffe, l'ho trasformato in una funzione, passo la set time out, dico eseguilo dopo 2 secondi e facciamo la prova. Commentiamo la console.log prima, che è quella che abbiamo messo nella callback, e proviamo. Aspettiamo 2 secondi e in effetti il vettore si è riempito. Giusto? Quindi effettivamente siamo arrivati alla fine del codice. Perché nella fine del codice non abbiamo eseguito questo, abbiamo solo registrato la callback. Poi Node è stato lì a far nulla, fino a che ha eseguito la callback, quando il db all ha detto i dati sono pronti, li ho presi dal db, mi ha riempito result, poi è di nuovo stato lì a far niente, sono passati 2 secondi e mi viene chiamata la callback della set time out. A questo punto, dopo 2 secondi, diciamo che visto che sto facendo niente, il db è piccolo, fa tutto in fretta, result è riempito, effettivamente stampo e mi viene fuori il risultato che io attennevo. Però, no, 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 mi raccomando, adesso disfiamo tutto, non ve lo metto assolutamente online, però, come curiosità, anche solo come pratica per fare prova con la set time out, possiamo farlo, però non è la maniera di procedere. Quindi noi abbiamo imparato finora che va benissimo ragionare i termini callback, ma se abbiamo poi delle cose da fare con i dati che vengono fuori dalle callback, o mettiamo tutto il codice nelle callback, oppure, come dire, non abbiamo un meccanismo sicuro per attendere la fine dell'esecuzione della callback, no? Perché? Perché per ora non ce l'abbiamo, appunto, tranne questo che abbiamo visto così empirico, ma non va bene, non va bene perché non abbiamo la certezza. Ok, e allora cosa facciamo? Beh, ovviamente, visto che il problema è sentito, diciamo così, c'è una soluzione, perché tutto l'assincrono si basa su questo. Quindi, questo è quello che abbiamo visto prima dell'intervallo, proprio con l'esempio, no? Cioè, il codice della callback è eseguito in maniera sincrona, e quindi se noi andiamo avanti faremo un console log di un result vuoto, quello che abbiamo visto prima. E questo vale per tutte le query. Quindi, qui adesso sulle slide trovate tanti esempi, non abbiamo troppo tempo, quindi non possiamo entrare in tutti gli esempi. Però c'è tutto online, c'è un db sqlite, che contiene una unica tabella con una colonna, number, in cui fondamentalmente ci mettiamo un nuovo valore, facciamo un insert into numbers valore 1, valore qualsiasi, ma giusto per scrivere delle righe dentro la tabella, e poi le contiamo, select count asterisco, per contarle. E sembra banale, no? Boh, cosa vuoi che ci voglia? Noi siamo abituati a programmare, facciamo un for, let t uguale a 0 e minore 100 e più più, db run, run, no? Perché run per la insert, all per la select, insert, select, insert, select, no? Inseriamo e leggiamo il numero, inseriamo e leggiamo il numero, boh, funzionerà tutto, no? No, no, perché? Perché il risultato è poi qualcosa come quello che vedete qui a destra. Cioè, non abbiamo la garanzia che facciamo l'account dopo la insert. Perché? Perché queste operazioni sono eseguite in maniera sincrona. Noi diciamo alla libreria SQLite 3, ma qualsiasi libreria che ci gestisci db, esegui questa operazione. E se non abbiamo una maniera di dire aspetta, e non c'è, non sappiamo che cosa succede. Ok? Quindi, se voi provate questo codice, diciamo, viene eseguito come capita. Ok? Perché noi stiamo, praticamente, con questo ciclo di 100, chiedendo di fare 200 operazioni asincrone sul db. Ma non abbiamo la garanzia dell'ordine, perché essendo asincrone, la libreria farà come ritiene. Ok? Quindi, i file ci sono, io non starei a mettermi lì, ma forse si può, queries, sì, forse viene facile. Node queries, js, ci spara i numeri, vedete, effettivamente succede, 699, 699, 700, e così via. C'è questo, qual è il, data SQLite, se andate ad aprirlo con, con quello che usavamo prima, facciamo la pratica, data SQLite, e ci trovate, un'unica tabella, con delle righe. Ok? Per vostra comodità, nei file, c'è anche, data empty, SQLite, il grande vantaggio, di usare la SQLite, è che se, voglio resettare il db, chiudo il programma, prendo, il db vuoto, il file del db vuoto, ce lo copio sul db corrente, e ho resettato il db. Ok? Invece, in un database server, dovete dare, non so quanti comandi, paccioccare con qualche interfaccia, per, per creare un nuovo db, cancellare tutto, e così via. Ok, quindi, abbiamo, visto che c'è questo problema, e come facciamo a risolverlo? E questo è un bel problema, nel senso che, qui c'è il cane che si morde la coda, nel senso che, se noi vogliamo la garanzia, che una cosa sia eseguita dopo l'altra, si arriva, dobbiamo metterlo dentro la callback, e ma se abbiamo il ciclo, è un bel pasticcio, c'è una domanda? La seconda la possiamo mettere dentro la prima, il problema è che dovremmo mettere la prima dentro la seconda, quindi come facciamo se abbiamo un ciclo? Cioè, se noi sappiamo che dobbiamo fare tre operazioni, ok, facciamo, la seconda dentro la prima, la terza dentro la seconda, e abbiamo risolto, ma se il numero di operazioni è parametrizzato, come qui, cioè 100, ma potrei volerne fare 200, 50, e così via, e questo, questo è un problema. C'è una soluzione, che non voglio neanche farvi vedere, e, perché di fatto, se uno trasforma questo meccanismo, in una macchina stati, trafficando un po', può provare a riorganizzare il codice, e farlo andare, però, non è sicuramente la maniera in cui vogliamo programmare, c'è questo query sync, che c'è, non ve lo so assicurarmi, c'è, ve lo guardate, se siete curiosi, ma se vi confonde le idee, dimenticatelo, tanto non programmeremo mai in questa maniera. Ok? Il modo in cui programmiamo, sì? No, ma il problema non è i, il problema è che noi vogliamo, inserire e contare, inserire e contare, e quindi, vogliamo attendere, il conteggio, per fare il prossimo inserimento. non è che non funziona, non è che alla fine non ci sono 100 righe in più, alla fine ci sono 100 righe in più, perché prima o poi le insert vengono eseguite, se non danno errore, ma diciamo nel nostro caso non danno mai errore. Il problema è che noi vorremmo forzare un ordine di esecuzione delle query, ok? che sono funzioni asincrone, e quindi come facciamo? Questo è il problema, ok? Comunque, grazie per la puntualizzazione, e adesso vediamo la risposta, la risposta che hanno dato, che non è solo di javascript, però in javascript vengono molto comode, è usare questo meccanismo delle promesis, promesse in italiano, perché se noi dobbiamo fare tante operazioni asincrone, in error vuol dire di seguito, usando le callback, bisogna continuare a scrivere dentro ogni callback il codice della prossima operazione, e se abbiamo un ciclo, come abbiamo visto poco fa, diventa anche molto complicato, dobbiamo riorganizzare il codice completamente, se noi potessimo trovare un modo per fare questa operazione in maniera un po' più naturale, un po' più sequenziale, lasciatemi dire, avremmo risolto il nostro problema, e allora a questo punto introduciamo le promesis, che vi dicevo non sono solo di javascript, non sono usatissime in javascript, che semplificano la programmazione asincrona, fondamentalmente ci risolvono, uno, il problema, questo qui che abbiamo chiamato callback hell, cioè l'inferno delle callback, l'annidamento, più annidiamo codice, meno si capisce, e in più, visto che ha scoperto che sono così utili, nelle versioni più nuove di javascript, hanno introdotto addirittura un paio di keyword che vediamo oggi, async, await, che ci servono a fondamentalmente scrivere il codice asincrono, potendo aspettare l'esecuzione della funzione asincrono, quindi scrivendolo in una maniera che assomiglia al codice asincrono, ok? Se noi potessimo dire, nell'esempio di prima, for, db run, ma ci potessimo mettere davanti un wait, ci metteremo davanti await, e poi await db all, questo codice si risolve da solo, però questa funzionalità non ce l'abbiamo, è stata introdotta nelle nuove versioni di javascript, ma usando sotto, dentro, effettivamente queste promises, che quindi dobbiamo capire. Cos'è una promise? È un oggetto che rappresenta il completamento, ad un certo punto, in una maniera o nell'altra, quindi con successo, con fallimento, di un'operazione asincrona, ok? Però è un oggetto che possiamo ritornare subito dalla funzione asincrona. Questa è la chiave. È qualcosa che verrà aggiornato col risultato dell'operazione asincrona, ma è un oggetto che ritorniamo subito, ok? ovviamente subito non avrà il risultato, ma a un certo punto verrà aggiornato, ok? Però avendo un oggetto che possiamo usare subito nel codice sincrono, siamo in grado di evitarci di scrivere la callback e scrivere tutto il resto del codice dentro la callback, perché possiamo prendere questo oggetto e lavorare su questo oggetto. E se questo oggetto è fatto bene, una volta che ha il risultato, ci chiamerà il resto che noi attacchiamo a questo oggetto. Quindi, in sostanza, una funzione asincrona ritorna una promise per fornire un valore ad un certo punto nel futuro, che è di solito il risultato dell'operazione, quindi il conteggio, il numero, la insert, il risultato della insert, successo, fallimento e così via, invece di ritornare immediatamente il valore finale. Quindi, di ritorno, qualche cosa che poi sarà aggiornato col risultato dell'operazione. Queste promise sono state standardizzate, quindi sono un meccanismo standard per gestire gli errori e fornire un meccanismo di propagazione degli errori o dei risultati attraverso una serie di funzioni asincrone, che quindi possiamo collegare le une alle altre, ma senza più annidarle. Questa è la chiave di tutto. Quindi andiamo a vedere come funzionano. Quindi di fatto stiamo esplorando l'oggetto promise, che ha disposto a disposizione dentro node e dentro il browser. No, se no non ne poneremo neanche. E soprattutto molte funzionalità dentro il browser, alcune librerie anche in node, eccetera, vi ritornano delle promise e quindi dobbiamo essere in grado di capirle e gestirle. La più famosa di tutte è la fetch. Quindi quando carico dei dati dalla rete, siccome è un'operazione asincrone e siccome non so come andrà a finire, la primitiva all'interno del browser, che si chiama fetch, che vedremo poi più avanti, ritorna una promise. per evitare di dover scrivere una callback piena di codice, perché io poi con quel risultato dovrò fare tante cose. Mi vengono caricati i dati dal server, mi danno i dati, non so, del DB e dovrò andarci a fare dei ragionamenti, dei calcoli delle operazioni, aggiornare altre cose, quindi avrei tantissimo codice da scrivere dentro una callback. Se invece ho una promise, come vediamo tra poco, riusciamo a semplificare come scriviamo questo codice. Quindi, allora, una promise inizia in uno stato che si chiama pending. Quindi, l'operazione asincrona ci dà subito la promise, ma ce lo dà in uno stato appunto pending, come si traduce in italiano? Appeso, no? Cioè vuol dire inattesa. E poi, una volta che l'operazione asincrona è terminata, la promise va in un altro stato che può essere diciamo, ho avuto successo oppure c'è stato un problema. Ok? E finisce lì il ciclo di vita della promise. Quindi inizia sempre in uno stato di attesa e poi va in uno stato ho finito con successo e quindi ho un risultato oppure ho finito con un problema e ti do un errore, un qualcosa. Ok? A questo aggiornamento di stato posso agganciare altre funzioni. La chiave sta lì, che è quello che farei nello scrivere il codice nelle callback. Ok? Quindi, la funzione chiamante attende che la promise venga portata nello stato successivo che può essere o si chiama fulfilled, soddisfatta oppure rejected, rifiutata. Ok? Ma se stiamo con i termini in inglese è più facile perché le traduzioni sono un po' orribili secondo me e poi in giro ho trovato appunto fulfilled, reject e pending. Sono i tre stati. Pending in iniziale e si va o da una parte o dall'altra. Non si può tornare indietro. Una volta che una promise è stata fulfilled è fulfilled è finita. Oppure è stata rejected fine. Ok? Non può tornare in pending perché rappresenta il termine di un'operazione. L'operazione è terminata fine. Se voglio fare qualcos'altro faccio un'altra operazione crea un'altra promise riparte dal pending quando avrà finito deciderà in che stato andare. Ok, come facciamo a crearla? La creiamo ci sono tanti modi a dire la verità però diciamo uno dei più semplici è fare new promise da dove spunta promise è come la set timeout è a disposizione nell'ambiente. Ok? È un constructor function quindi che prende come parametro una funzione una funzione a cui che si aspetta come parametri altre due funzioni questo è javascript è sempre una funzione c'è sempre una funzione di mezzo quindi cosa si aspetta la callback alla funzione che passiamo al costruttore della promise si aspetta una funzione che prende come primo parametro la funzione da chiamare se la promise finirà in stato fulfilled quindi se si risolve bene diciamo così l'abbiamo messa in verde e come secondo parametro la funzione da chiamare nel momento in cui la promise si risolve diciamo così male cioè va in reject era in rejected quindi se noi passiamo questo scriviamo qui dentro sostanzialmente passiamo queste due funzioni la promise quando evolve di stato quindi parte del pending e va in fulfilled o reject ci chiama una delle due e noi siamo in grado di diciamo agganciare dei valori a questi stati ok quindi se noi dobbiamo scrivere il nostro codice a sincrono fondamentalmente dentro la promise dentro il codice della funzione che passiamo per risolvere la promise scriviamo il nostro codice a sincrono e quando abbiamo finito chiameremo la resolve o la reject che verranno riprese dalla promise per far proseguire il nostro valore fulfilled o reject alla prossima operazione da fare che però a questo punto non dobbiamo più scrivere qui dentro la scriveremo fuori quindi ce la tiriamo fuori dall'annidamento e riusciamo a scrivere del codice lasciatemi dire decente leggibile mi rendo conto che è un po' macchinosa la spiegazione infatti adesso vediamo subito degli esempi quindi sì non ho capito la print questa qui allora qui qui stiamo semplicemente dichiarando una funzione wait che ritorna una promise return new promise poi la wait dobbiamo ancora chiamarla ok quando chiamiamo la wait quindi nella slide successiva vediamo come agganciare il risultato della promise con questo then e con questo catch ok quindi prima di tutto creare la promise quindi noi creiamo questa promise quindi sostanzialmente per creare la promise dovete scrivere questa prima riga return eccetera sempre uguale ok perché questo è quello che vuole il costruttore della promise e poi dentro scrivete il codice che vi interessa ok quindi qui dentro potete fare db all andare sul db a caricare dei dati oppure fare la vostra logica di funzionamento qui la logica di funzionamento è molto semplice se du ratio che ci è stato passato è minore di zero facciamo reject se no facciamo una set timeout e poi chiamiamola resolve dopo quel periodo di tempo che ci è stato passato ok questo è un esempio un po' artificiale per fare capire spero come fare una promise semplice poi tra poco proviamo a applicarla anche al database ok ok quindi una volta che abbiamo eseguito il codice della promise abbiamo no scusate non abbiamo eseguito abbiamo creato la promise la promise una volta che è stata creata esegue il codice ok quindi esegue questo codice e quando ha finito va in stato resolve o quindi fulfilled o reject quindi ci chiamo la resolve o la reject ok ovviamente qui non c'è niente di asincrono in questo pezzettino di codice su duration no perché lo può fare subito no però la parte di resolve per esempio è asincrona perché ci verrà chiamata dopo se noi mettiamo due secondi di timeout ci verrà chiamata dopo una volta che la promise ha cambiato questo stato come chiedeva il vostro collega prima che ne facciamo come facciamo a dire ok fai qualcos'altro bene un oggetto promise ha sempre due metodi un den e un catch nel den scriviamo il codice o meglio la callback da chiamare quando la promise va in stato fulfilled diciamo non ci sono stati errori e abbiamo un valore che vogliamo ritornare dalla nostra operazione asincrona nel catch ci andiamo quando la promise va in stato reject ok quindi c'è stato diciamo così un errore e di nuovo passiamo una callback che deciderà cosa farne di questo errore console log piuttosto che nell'interfaccia web che andrete a fare per il progetto magari fate apparire una scritta attenzione c'è stato un errore quindi altro codice cosa diversa noi qui andiamo avanti a console log per fare gli esempi piccoli e poterli provare nel viso studio code ok il catch può essere omesso nel senso se l'errore non lo vogliamo gestire pazienza in stile javascript e se invece omettiamo il del che succede ma anche il del si può omettere però se noi omettiamo di prendere il risultato dell'operazione asincrona cioè il nostro codice non ha tutto questo senso se abbiamo fatto fare un'operazione non ci interessa il risultato può darsi che ci sia qualche caso di questo tipo però di solito il risultato ci interessa e quindi nel den di solito cioè scriviamo il den e nel den facciamo qualcosa con questo risultato al minimo ce lo stampiamo se no non so popoliamo la nostra interfaccia web con i dati e così via ok quindi se prendiamo l'esempio di prima quindi questa è la wait di prima diciamo atteniamo mille millisecondi quindi un secondo quindi abbiamo passato un valore maggiore di zero quindi dopo un secondo vi ricordo il codice di prima dopo un secondo perché duration non era minore di zero duration era maggiore di zero ha fatto set time out resolve mille la set time out ha fatto girare quel timer che vedevamo nell'ora precedente dopo un secondo chiama la resolve la resolve la resolve della promise e quindi questo oggetto wait mille che è una promise dopo un secondo chiamerà ciò che noi abbiamo messo come callback della den e quindi ci stamperà success se avessimo messo un valore negativo ci stamperà quello che abbiamo scritto error error e ce lo farà subito perché l'avevamo fatto subito non abbiamo scritto set time out reject mille l'abbiamo fatto subito e quindi ce lo farà subito compatibilmente col fatto che l'interprete javascript non stia facendo altro ok va bene ehm si 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 then catch then si il catch no il catch mi sa che deve metterlo alla fine perché il catch non ne viene eseguito si adesso poi arriviamo alla concatenazione quindi si possono mettere in catena di solito si mettono uno solo alla fine perché semplicemente perché cioè gestire l'errore a metà ci fa uscire dalla catena però diciamo il meccanismo è strutturato in modo che se anche metto il catch alla fine se la promise è rejected non fa gli altri then ok adesso arriviamo a quello che ha chiesto il vostro collega da dove spuntano i metodi then catch sono implementati dalla promise tutto ciò che è una promise ha un metodo then e un metodo catch ok quindi questo è sostanzialmente quello che diciamo in termini un po' più formali se voi andate a cercare promise diciamo le chiamiamole le istruzioni d'uso in then passiamo una callback obbligatoria che viene eseguita se la promise è fulfilled e in catch passiamo una callback da eseguire se la promise è rejected ok cosa vuol dire le callback queste un fulfilled un rejected sono eseguite in maniera asincrona vuol dire che se quando l'operazione asincrona che ha creato la promise ha finito e dice ok ho avuto successo la promise è fulfilled il codice sta facendo del resto la callback che io ho passato qui è un fulfilled aspetta aspetta che quel codice che viene eseguito sia finito e poi è nella coda è nella coda che abbiamo visto prima è sempre questa coda sta qui in coda quando ha finito quando il suo turno viene eseguita e si va avanti ok ok sta registrando versi benissimo c'è una terza opzione c'è il finally come vedete questa cosa è abbastanza simile al try catch finally delle eccezioni e qui e la logica di funzionamento è anche abbastanza simile questa finally cosa serve? serve eseguire qualcosa in ogni caso che la promise sia fulfilled o rejected ok se non avessi la finally dovrei duplicare il codice dentro la fulfilled e dentro reject ok è un po' come il finally del try catch se io devo chiudere qualcosa devo chiudere un file eccetera lo metto nel finally così sono sicuro che qualsiasi cosa sia successo chiudo il file ok la cosa interessante è che tutti questi metodi ritornano essi stessi delle promises e quindi si possono concatenare come vedevamo prima sulla domanda del vostro collega e quindi potendoli concatenare abbiamo risolto il nostro problema di annidamento che diventa un concatenamento ok quindi sostanzialmente questo va bene è riassunto lo guardate poi comunque creo la promise resolve reject a un certo punto farà resolve se io scrivo un valore dentro resolve questo valore è il parametro che viene passato alla callback che io metto dentro il den ok quindi se io ho bisogno di dare un risultato questo è la maniera di far uscire il risultato dall'operazione asincrona prima ci chiedevamo come facciamo col valore di ritorno qui non c'è il valore di ritorno la promise può contenere un valore e siccome javascript può essere di qualsiasi tipo può essere un oggetto un array un valore diretto quindi un numero una stringa quello che vi pare una funzione una funzione pasticcia un po' le cose però diciamo tipicamente un oggetto un array ok un valore e reject idem di solito la y questo qui il valore che passiamo è l'errore una striga un oggetto errore qualcosa che ci dica cosa è successo ok poi noi possiamo passarlo e non usarlo fare console log error indipendentemente da quello che è capitato cioè quello che scriviamo qua è a nostra discrezione come sempre ok quindi abbiamo le promise abbiamo una maniera di restituire subito un oggetto nel momento in cui chiamiamo una funzione che deve fare un'operazione asincrona quindi di restituire l'oggetto promise in maniera sincrona e che verrà aggiornato dalla funzione asincrona quando ha finito e siccome allora abbiamo subito questo oggetto promise e questo oggetto promise ha un punto then un punto catch noi possiamo concatenare una seconda operazione una terza operazione una quarta operazione e così via che verranno eseguite solamente quando la promise precedente viene risolta in un verso o nell'altro quindi viene fulfilled o reject ok quindi abbiamo rimosso la necessità di annidare di nest di annidare le operazioni precedente perché anziché scriverle annidate adesso le possiamo scrivere in forma sequenziale ok come dicevamo con il vostro collega prima se la promise a un certo punto viene rejected perché una di queste operazioni fallisce ci fa reject andiamo avanti tutte le then sono ignorate e andiamo a cercare la prima catch cioè la promise diciamo non è che vengono ignorate ma viene sempre restituita una promise rejected che quindi non usa il then restituisce un'altra promise rejected e va avanti fino a che c'è un catch e quando troviamo il catch viene eseguito questo codice del catch ok e poi vabbè il final se l'avete messo ma insomma questo è una cosa diciamo così per chiudere il discorso si usa pochino nella nostra programmazione web importante mi raccomando ogni volta è necessario ritornare un risultato ok perché qual è il valore della promise fulfilled o reject per il prossimo then è il valore ritornato dalla callback che noi abbiamo messo nel then precedente o nella funzione se è la prima ok quindi se noi non ritorniamo un valore questo valore non ci lo ritroviamo nel then o nel catch successivo ok vi ricordo questa scrittura è equivalente a dire freccia aperta graph return get issue aperta graph return get owner se non facciamo return le promise funzionano ma ci perdiamo il valore e siccome io voglio il valore per fare l'operazione successiva se non ho il valore si si ho fatto la catena ma a un certo punto mi sono perso per strada il valore e non mi serve più fare l'operazione successiva cioè l'operazione successiva non ha che ne so la owner e quindi è inutile che vado a fare send mail send mail mi darà un errore e quell'operazione va lì solo perché non mi sono ricordato di passare il valore e questo è usatissimo lo vedremo qui adesso non ho la pretesa di andare dentro questa cosa però per esempio la fetch che non avete in node quindi questo è un esempio teorico ma avrete dentro il browser carica dalla rete la risposta che ci dà un server web a fronte dell'accesso a un certo url quindi c'è un server polito.it slash todo.json scarica i dati e ce li mette a disposizione sotto forma del valore della promise fulfilled nel momento in cui i dati sono stati scaricati e sono pronti per essere usati e se avete la connessione lenta magari ci mette qualche secondo se ce l'avete veloce ci mette un po' meno comunque è un'operazione asincrona nel frattempo javascript può fare del resto ed è importante perché se no avete tutto bloccato avete l'interfaccia bloccata se voglio cliccare qualcosa nell'interfaccia che deve reagire al mio click con del codice non può farlo se è bloccato ok comunque sulla fetch torniamo quindi questo esempio è più che altro per dire guardate che bisogna impararlo ok possiamo anche fare cose più complicate con le province forse quando ci sarà bisogno possiamo riprenderle ma diciamo che ci sono quelli che chiameremo metodi statici ma che in realtà sono proprietà dell'oggetto promise che sono delle funzioni che noi possiamo chiamare per far partire operazioni asincroni in parallelo e attendere la risoluzione o di tutte le promise con all o almeno di una esempio devo caricare tre dati ma non importa l'ordine faccio promise all di tutti e tre i caricamenti quando ho finito di scaricare tutti e tre magari da tre siti diversi che devo mettere insieme nel mio sito posso andare avanti col mio codice se non avessi promise all diventa un pasticcio perché dove lo metto il punto den sulla prima promise sulla seconda o sulla terza dovrei in qualche maniera gestirmi io di capire quando non ho finito tutte e tre cioè avrete tre den tenermi un array capire quando ho finito ma poi non riesco più a scrivere il codice asincrono eccetera hanno già messo il metodo dentro promise ok all oppure race scarico due cose uguali da che ne so da un sito da un altro quello che arriva prima va bene e così velocizzo un po' il mio sito un esempio per dire tanto per far capire che è possibile far partire più operazioni asincroni insieme e attendere un certo evento che si verifica su una o su tutte le promise cioè la risoluzione della promise in un senso o nell'altro e ovviamente poi se andate a vedere il manuale ci sarà scritto come andare a recuperare i valori delle singole promise e così via questo prende un array perché chiaramente può essere più di uno eccetera ok quindi abbiamo visto le promise io farei un esempio nel nel studio code perché se no tutta teoria che finisce che ci esce dalle orecchie promise timeout ok quindi questo è l'esempio che abbiamo visto sulle slide no wait return new promise duration eccetera wait mille proviamolo dunque sono nella cartella principale quindi nod promise timeout slide lo proviamo dopo un secondo c'è scritto success ok cosa è successo ripetiamo ancora una volta ho chiamato la wait mille ma subito ho dato la promise in maniera sincrona la promise è lì chiamo subito il den ma passo una callback al den ok la callback da chiamare quando la promise è risolta in stato fulfilled cosa fa questa callback fa console log success ok la den mi da subito una promise ok io su questa ci chiamo catch e passo una callback da chiamare nel caso in cui la promise sia risolta in reject e ci stappo quello che voglio prendo per esempio il valore di error che mi verrà dalla risoluzione della promise originaria se il den non viene eseguito la promise che a cui è agganciato il den semplicemente viene passata oltre viene passata oltre perché è una rejected fino a che non trovo un catch se non trovo un catch sarà persa se a livello superiore mi sembra venga data un'eccezione ok quindi facciamo esempio che so mettiamo meno meno due ok cosa succede lancio subito viene fuori perché perché come vi ho detto prima reject viene subito chiamato visto che non c'è altro codice questo esempio è molto semplice non c'è altro codice che gira viene immediatamente risolta la promise in maniera reject quindi nel den la passa oltre il catch la prende e passa il valore presente nella promise che è questo error alla callback che io ho messo in catch e qual è questo valore è questo che io ho scritto qui è un oggetto error error è di nuovo una di quelle funzioni predefinite che può venire comoda per creare un errore in javascript sotto forma di oggetto e non solo di stringa così ho una serie di diciamo di metodi aggiuntivi e se lo voglio stampare quindi voglio stampare la stringa che io ho messo dentro l'oggetto error se andate a cercare vedrete che c'è un to string per poterla stampare se no passavo una stringa andava bene lo stesso potevo anche fare reject con una stringa qui scherzosamente dicono non abbiamo ancora implementato i viaggi nel tempo perché ho messo il timeout negativo funziona uguale perché c'è questo secondo error perché la to string ci scrive davanti a due punti ok quindi posso passare il valore che voglio a mia discrezione il valore che io metto può essere una stringa un numero un oggetto un array quello che voglio quando andrò a tirar fuori i dati dal db ci metterò l'array faccio la select vengono fuori le righe ci metterò l'array delle righe per esempio se invece appunto c'è un errore di solito con una stringa me la cavo ho metto un numero che corrisponde a un codice di errore insomma mettete quello che ritenete ok quindi provatelo questo è l'esempio delle slide potremmo no vabbè ma ve l'ho detto insomma provate vedete wait 2 viene fuori una promise subito punto den viene subito fuori una promise punto catch viene subito fuori una promise cosa cambia è quando vengono risolte nel momento in cui vengono risolte allora vengono eseguite le callback o l'una o l'altra perché o l'una o l'altra perché la promise va in full fill o va in reject non può andare in tutti e due ok benissimo se avete dei dubbi mi raccomando se no diciamo chiudiamo il discorso delle slide e poi facciamo l'esempio e proviamo a trasformare l'esempio vecchio dell'altra volta che aveva la lista di risposte in qualcosa che legge da database creando una promise quindi in maniera asincrona e facendoci ritornare le righe che corrispondono alle risposte ok non vedo domande quindi vado avanti poi direte promise abbiamo già risolto il problema in maniera buona perché abbiamo trasformato un annidamento di codice che non ci piace mai perché annidando il codice prima o poi ci si sbaglia in una catena di operazioni punto den punto den punto den e va già bene possiamo fare un passo in più è stato fatto un passo in più in javascript non nelle s6 che è quello che noi prendiamo come riferimento ma nelle s8 quindi diciamo due anni dopo sono state introdotte due nuove parole chiave async e await che ci consentono di scrivere del codice basato sulle promise quindi dentro funziona esattamente come con le promise ma che sembra codice sincrono cioè in sostanza possiamo scrivere await qualcosa e aspettare ma in realtà è semplicemente una maniera di trasformare quel codice che noi scriviamo con le promise punto den in codice che ha l'aria di essere sincrono ma si blocca in realtà non è che si blocca che implicitamente prende quello che noi vorremmo fare dopo la await quindi dopo che ho eseguito l'operazione sincrono e sotto sotto me l'ha messo in un punto den per farlo eseguire e così via solo che lo fa per noi ok noi possiamo usare async e await comodamente perché oramai sia node sia i browser e sia diciamo l'ambiente che andremo a usare react che di fatto ci trasforma un po' il codice quando noi andiamo poi a usarlo per fare la nostra applicazione capiscono questi ambienti async e await e quindi possiamo tranquillamente usarli nel nostro codice lo riportano al codice s6 come fanno con un meccanismo automatico ritrasformano tutto quanto in promise then catch eccetera che noi non vediamo però sotto sotto funziona così ok quindi come facciamo a scrivere il codice con la seek e la await beh questa è la cosa più facile da capire nel senso che tutte le volte che vogliamo che una funzione ritorni una promise ci scriviamo davanti async e automaticamente diventa una funzione che ritorna una promise anche se ritornava un valore ok e tutte le volte che vogliamo chiamare una funzione asincrona quindi che esegue del codice asincrona aspettare il risultato la chiamiamo con la await ok quindi è la cosa più naturale mi verrebbe da dire no quindi che so dichiariamo una funzione e vogliamo che ritorni una promise ci scriviamo davanti async magia scusate la banalita ma ritorna una promise in realtà vi ho detto c'è qualcuno che o dall'es8 e l'interprete javascript che sa fare tutto quanto se non abbiamo l'es8 c'è qualcuno che farà la traduzione per noi new promise eccetera appunto then return tutte queste cose qua ok e poi e poi una promise quindi con la seek con la await abbiamo a che fare con promise quindi se vogliamo possiamo anche scriverci punto then punto catch sono promise abbiamo imparato le promise sono promise se non vogliamo fare così ci scriviamo await ok e possiamo farlo c'è solo una piccola limitazione che una await si può usare solamente dentro una funzione async quindi in parole povere nei nostri programmi node non possiamo scriverla al primo livello dobbiamo prendere tutto racchiudere una funzione dichiararla async e lì dentro possiamo scriverla await ma se già async va benissimo perché perché nel momento in cui io scrivo await nel codice quello che sto facendo diventa asincrono perché si blocca e riprenderà dopo e quindi per forza quello che sto facendo deve essere un codice asincrono e quindi deve essere fatto o dentro una funzione che ritorna una promise oppure dentro una funzione che abbiamo fatto in modo che ritorna una promise scrivendoci davanti async ok benissimo mi fidate qui che questo esempio funziona quindi qui qui non c'è nessun timeout non c'è niente quindi è solo una maniera per fare che cosa chiamare la funzione sample function che immediatamente ci dà una promise perché perché è dichiarata async quindi ritorna una promise che verrà immediatamente risolta come fulfilled mettendoci come valore test e allora se abbiamo una promise risolta fulfilled con un valore test then noi passiamo una callback che prende questo valore e ne fa quello che vogliamo noi ok o la scriviamo noi aperta tonda stringa chiusa tonda freccia console.log stringa oppure c'è la funzione di libreria può prendere un parametro console.log prende riceve il valore della promise fulfilled e lo stampa ok mi raccomando e qui non ci sono le tonde se ci mettete le tonde non funziona più niente console.log non è chiamata console.log è passata e la callback passata alla den ok se vogliamo metterci le tonde dobbiamo mettere aperta tonda stringa chiusa tonda freccia console.log aperta tonda stringa chiusa tonda ok questa è la maniera alternativa un po' più esplicita per scrivere la cosa ok quindi quindi non c'è nulla da capire sulle funzioni asincrone se non che ritornano delle promise che funzionano esattamente come le altre promise che abbiamo visto finora quindi quando risolvono la promise quello che deve essere fatto viene messo nella coda delle callback nella callback queue abbiate sempre questo in mente perché se sto facendo altro aspetta una volta che ho finito il primo in coda passa ma come alla posta il tizio davanti ha finito e andate voi e così via ok slide dove sono come facciamo a usarle è semplicissimo probabilmente questa è la cosa più bella di tutte perché perché è il motivo per cui usiamo async await per poter scrivere il codice con la await perché il codice con la await è estremamente comprensibile cioè aspetta che questa funzione finisca quando ha finito prendi il valore in ritorno la segna a sinistra no return value uguale await expression che di solito è la chiamata una funzione asincrona ok await blocca l'esecuzione del codice dentro la funzione asincrona fino a che la promise è stata risolta in una maniera o nell'altra ci può andare bene normale fulfilled o reject però deve essere risolta non è impending se è impending si aspetta e quando si riparte si va nel callback queue quindi nella coda si aspetta che non ci sia niente da eseguire che sia il nostro turno e viene eseguito il codice quindi si riprende da quel punto ecco cosa succede nel momento in cui la promise è rejected occhio che questa espressione lancia il valore diciamo rigettato quindi quello che noi abbiamo scritto come valore di reject l'error la string eccetera cosa vuol dire lancia fa un throw con le eccezioni ok quindi nella promise abbiamo punto den punto catch qui nella sync await abbiamo await quando va tutto liscio viene assegnato a sinistra il valore se noi dobbiamo gestire il problema dobbiamo metterci intorno un try catch ok se noi ci mettiamo il try catch questa eccezione come tutte le eccezioni va esce dalle varie funzioni a un certo punto o arriva a qualche catch che l'aggancia oppure arriverà al livello superiore e fa finire il codice no un'eccezione non gestita di solito vi fa terminare il codice ok però quando funziona è bellissimo il codice no perché perché è molto comprensibile per esempio console log chiamo await risolvi dopo due secondi perché la funzione l'ho scritta così e poi scrivo il risultato e qui non vedrò cioè il console log viene effettivamente eseguito solo dopo che la promise corrispondente a questa funzione la resolve viene risolta in un senso o nell'altro quindi effettivamente ho trovato una maniera di bloccare il mio codice che era quello che volevo all'inizio di questa lezione quando avevo il for i uguale a 0 e il minore di 100 mi sarebbe piaciuto avere il blocco per ogni operazione no quindi questo la possiamo provare forse async await deve un po' spicciarci eccola qua sì quindi node async await calling due secondi e viene risolta ok e se io avessi fatto reject così potete provare per conto vostro ma proviamo noi dopo due secondi anziché fare il resolve facciamo il reject cosa succede? oppla succede che ho dimenticato un pezzo che qui devo scrivere risolve il reject lo sapete che javascript è estremamente tollerante forse fin troppo reject allora mettiamo reject cosa succede? c'è un'eccezione non gestita dovrei mettere un try catch o qui o intorno alla async call o dentro la funzione async ok? quindi ricordatevelo non è che sempre ci va tutto liscio con le province cioè then catch è naturale con le async await c'è l'assegnamento o devo gestire le eccezioni ok? non lo facciamo perché non abbiamo tempo perché volevo finire quindi ecco occhio che la funzione async quando fa return fa return di un valore di una promise fulfilled no? se noi vogliamo fare una promise rejected con la funzione async dobbiamo fare throw ok? abbiamo questa cosa dobbiamo usare l'eccezione perché prima era semplice abbiamo due parametri resolve reject adesso non ce li abbiamo più allora uno è il valore di ritorno e l'altro è l'eccezione per dire ok o no va bene e allora finalmente arriviamo al nostro esempio quindi diciamo che noi dovessimo caricare dei dati ok facciamo get api data ci ritorna una promise lo sappiamo l'abbiamo scritta noi o comunque qualcuno l'ha scritta e ci ritorna una promise then e poi ci mettiamo dentro il codice che vogliamo ok e se abbiamo bisogno di fare altre cose facciamo un altro then quindi dopo questa tonda un altro then e si va avanti senza annidare in catena con la wait è tutto più semplice nel senso che se noi non ci interessa il catch come in questo caso facciamo await e poi il resto del codice viene eseguito dopo che ho finito ok quindi ovviamente il massimo vantaggio ce l'avete quando avete più then perché con un unico then non è che c'è tutto sto vantaggio no perché la questione era togliere i vari annidamenti se avete più then il vantaggio c'è e vedete la trasformazione del codice col then in await quanto ci fa permettetemi di dire capire di più il codice no perché get issue aspetto e poi prendo il risultato e lo metto in issue issue lo prendo lo passo a get owner aspetto il risultato e lo metto in owner e vado avanti così ok quindi e diventa abbastanza intuitivo ovviamente stiamo assumendo che no le tre funzioni di sopra quali sarebbero però non ce le avevo no in realtà secondo me questo commento un po' sbagliato perché in realtà io appunto si ritorno in una promise diciamo in maniera implicita nel senso che quando sono dentro una den e la den che mi prende il valore mi ritorna la promise ok e quando invece sono a fare la sync e la wait se ci ho messo la sync automaticamente che se faccio return mi ritorna la promise questo commento non mi piace tanto è un po' fuorviante ok quindi posso fare tutto quello che voglio ed è anche molto più semplice da debuggare perché è chiaro che a forza di callback nel codice non si capisce più niente se cominciate a mettere il breakpoint il codice comincia a saltare da una parte e dall'altra si ricorda di cosa c'è nel callback queue che viene eseguito quando non avete nulla da fare con la sync e la wait è un po' più facile seguire il flusso di esecuzione perché il codice ce l'avete l'iscritto e si capisce che dovevi andare all'istruzione successiva è solo una questione non si confonde mai e noi quando andiamo a dare un'occhiata al codice che rischiamo di confonderci allora quando è che usiamo una sync o quando è che usiamo una wait assync await oppure quando è che usiamo le promise diciamo che se le cose sono da fare in sequenza probabilmente la wait e quindi la sync sono la cosa più semplice per leggere il codice se la gestione dell'errore non ci complica troppo se si possono lanciare in parallelo l'operazione assincrone non abbiamo tanta scelta c'è solo il promise all non è che possiamo fare due await in parallelo ok ecco cerchiamo di creare funzioni assincrone piccole con poco codice perché perché diciamo il codice di una funzione finché la funzione non è finita è bloccante ok più questi codici sono piccoli quindi più le funzioni sono piccole e più abbiamo la possibilità di far entrare nel flusso di esecuzione qualcosa dal callback queue dall'event loop se il codice contiene il vostro codice che scrivete contiene del codice bloccante fa input output fa delle cose deve aspettare eccetera scrivetelo in maniera sincrona perché se lo scrivete in maniera sincrona costringete chi lo usa a usare una modalità sincrona perché se non lo può modificare non c'è alternativa a usarlo in maniera sincrona ok allora andiamo a rivedere il nostro esempio siamo abbastanza verso la fine sì quindi dobbiamo eseguire una query cominciamo dalla più semplice che so insert facciamogli ritornare la promise db run è un insert db all per le select e db run per tutto il resto insert eccetera eccetera ifr reject else resolve finito e tutto il resto che facciamo lo attaccheremo al then di quando chiamiamo insert one che essendo async adesso ci ritorna la promise e quindi il codice che non sapevamo come mettere qui dentro è venuto fuori va a finire nel then o nella risultato prendiamo il risultato e lo mettiamo in una variabile con la wait stessa cosa con la select quindi cambia solo che la funzione è un po' più diciamo lunga ma per modo di dire reject se c'è l'errore altrimenti vabbè console.log possiamo fare una meno risolve ci mettiamo tutto quello che vogliamo può essere un valore può essere un array può essere un oggetto e così via quindi la nostra e il nostro codice for let i0 i minore di 100 diventa semplicemente await 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 e siamo certi che l'esecuzione questa volta si blocca prima mi fa l'insert poi fa il conto poi fa l'insert poi fa il conto e va avanti così ok l'unica cosa è che l'await lo dovete fare in una funzione async e quindi non potete mettere direttamente questo codice nel diciamo nel programma Visual Studio Code a livello massimo perché perché deve essere detto una funzione async perché il codice si blocca ok ok occhio al bug qual è la sbagliata e qual è la corretta qualcuno ha un'idea siamo quasi alla fine proviamo a fare solo un accenno di esempio visto che ci abbiamo poco tempo secondo me qual è quello giusto e qual è quello sbagliato ok aspetta il secondo il primo qual è quello a sinistra o quello a destra prima a sinistra a sinistra ha detto è è sbagliato no è sbagliato quello a sinistra è giusto quello a destra è sbagliato perché ma non c'è nulla è così così abbiamo vivacizzato un attimo perché è giusto quello a sinistra e quello a destra perché il main il main non aspetta il main ritorna una promise ok il main ritorna subito una promise pending ma ritorna una promise perché è una funzione async e quindi la close andiamo a farla subito prima di iniziare a fare le nostre operazioni ok se vogliamo che aspetti dobbiamo scrivere main aperta chiusa tonda punto den aperta tonda aperta chiusa tonda freccia db close così quello di destra quello di destra funziona ok se no non funziona perché funziona questo perché le await aspettano per davvero e quindi quando arrivo al db close qui ho aspettato veramente per 200 volte 100 insert 100 e 100 print quindi chiudo dopo che ho finito ok fate la prova non abbiamo tempo fate questa prova fate punto den come ho detto tanto c'è la registrazione aperta chiusa tonda freccia db close perché aperta chiusa tonda freccia devo passare una callback non devo passare il risultato di una chiamata sì sì posso fare await main va bene sì però il problema è che per scrivere await devo mettere tutto quanto dentro una funzione async siccome sono a livello massimo prova a farla la prova poi a fare in code e le da errore non puoi chiamare una funzione await dentro se sei fuori da una async ok un attimo un attimo che facciamo ancora l'esempietto queste sono le librerie che potete usare io vi direi di stare sull'esquale l'i3 ho visto che qualcuno aveva qualche problema ma in laboratorio lo aggiustiamo vi faccio vedere impostiamo almeno questo l'esempio dell'altra volta dove è andato qua SQLite3 lo so che avete fretta e volete scappare ma dobbiamo fare qua SQLite3 JS andiamo a prenderci il codice della 1 Wix della 2 quindi il codice dell'altra volta trasformiamo una funzione in asincrono ma ci mettiamo proprio due secondi dove sta dove è andato esercizio qua ok quindi poi ve lo metto online ovviamente per fare qualcosa di interessante dobbiamo fare tutti i nostri require SQLite3 eccetera eccetera visto che il tempo stringe ci concentriamo sul fare una funzione che so l'add ci facciamo l'add col db ok taglio un po' se no non abbiamo più tempo quindi quella l'add lì non esiste più add quindi noi facciamo lo stesso prototipo quindi fondamentalmente prende lo stesso parametro quella di prima la buttiamo via la vogliamo fare a sicuro che facciamo guardate la cosa più semplice per fare una funzione da sicuro è scrivere così return new promise ok poi è vero che possiamo avere la sync eccetera eccetera ma è la cosa più facile e risolvo reject oh dai reject e poi apriamo la graffa e facciamo quello che facevamo prima const sql uguale select eccetera eccetera ok poi taglio un po' db che adesso non abbiamo perché non abbiamo importato però run cos'è sql poi si cercavamo si ci sono i dati da mettere quindi ci sono tutti i vari dati da mettere e e poi cosa facciamo la callback la callback era functioner quindi ricordate che qui è functioner occhio oramai abbiamo un po' di esperienza in laboratorio ce lo ricordiamo però occhio che non fare la funzione arrow perché se no poi dentro non avete più il this che punta a quello che vi serve nella run quindi if er reject er ok else e cosa facciamo return no scusate non return resolve possiamo fare return return non non ci dà la promise risolta perché abbiamo la funzione resolve da chiamare qui resolve e dobbiamo dare il valore di ritorno io vi consiglio di dare quando fate le insert sempre l'astid ah ho sbagliato questa non era select era insert ok perché perché il nuovo identificativo creato dal database ok che spesso ci viene utile perché il database garantisce l'unicità di questo id mentre tutti i pacciocchi che facciamo noi no ok quindi allora questa è la add andiamo a va bene non possiamo cambiare tutto questo codice ma diciamo che scriviamo un q add in realtà è la stessa cosa eh e cosa facciamo per assicurarci che venga eseguito await fine ok qual è il problema quello che abbiamo detto un attimo fa che dobbiamo mettere tutto quanto dentro una funzione async perché se io adesso non posso eseguirla perché non ho fatto il require eccetera no però se lo eseguo così mi dice await non puoi usarla lì fuori di una funzione async allora che facciamo sapete in javascript le funzioni si fanno così async che so main aperta chiusa tonda o load chiamiamola un po' più furba ma load function load ok e poi e poi qualcuno chiamerà questa load ok quindi questo buttiamo via e poi ci sarà qualcuno che farà load e poi e poi se vogliamo fare del resto punto den mi raccomando non scriveteci sotto il codice se scrivete sotto il load si andrà a capo se scrivete nel punto den ci scrivete tutto il codice che volete dopo che avete caricato i dati fate tutto quello che volete ok oppure lo fate dentro la funzione async dopo le await ok vi metto online un qualcosa di ragionevole la prossima volta lo rivediamo perché pensateci bene sono importanti le funzioni async await promise e così via ok ci vediamo giovedì in laboratorio prima di due ore prima di due slot ci sono io ok va bene grazie attenzione e a presto grazie a tutti